Nella sede di Murata Gigotti a Coppito, nella giornata di sabato 21 aprile, per il terzo anno consecutivo, riaprirà la Scuola di Ciclismo Nazionale Ciclistica L'Aquila. La Scuola di Ciclismo è cultura della bicicletta ed è rivolta a bambini e ragazzi adulti che vogliono praticare l'uso della bici, con fiducia e sicurezza e migliorare le proprie capacità di guida divertendosi. La scuola è aperta ai bambini a partire sin dall'età di 5 anni, con esperti, istruttori e maessi della Federazione Ciclistica Italiana. Per maggiori informazioni si può scrivere all'email scuoladiciclismociclisticaqchiocciolagmail.com ma anche una pagina Facebook Scuola di Ciclismo Ciclistica L'Aquila Timma a Picco. Il sito internet è www.scuola-mtb.it e per maggiori informazioni si può chiamare anche il numero 346 23 16 162.